Assistenza ai alunni a scuola, agli alunni disabili è il tema dell'interrogazione in consiglio comunale del consigliere Foggia, quale nello specifico appunto il suo intervento? Sì, ho posato un'interrogazione dopo un'attenta analisi che ho fatto con alcuni genitori, un rappresentante diciamo di categoria, che dove mi ha chiesto gentilmente se si poteva intervenire, mi sembrava doveroso, visto che si è considerato che si riguarda di un disagio sociale e riguardo degli alunni che sono stati meno fortunati di noi, parliamo di ragazzi diversamente abili, dove non hanno delle figure specializzate nell'interesse comunque di portare avanti le proprie elezioni. Il comune di Masatevallo è in ambiente e prima di rincorrere la sanzione dal TAR, attraverso comunque dei debiti anche poi fuori bilancio, ho detto all'amministrazione comunale, alla pubblica istruzione, all'assessore società sociale, gentilmente se c'era l'opportunità di inserire in bilancio alcune somme e fare anche una variante di un capitolo e ricoprire questa figura che è di fondamentale importanza. Non esistono alunni di serie A, non esistono alunni di serie B, hanno tutti i stessi diritti. Siccome diciamo che sia delle scuole medie che delle scuole elementari e anche di infanzia, a chi si ne occupa, a chi ha la responsabilità, il comune di Masatevallo e questa figura manca, mi sembrava opportuno e doveroso fare un intervento costruttivo, nell'interesse comunque di andare a garantire questa figura a questi ragazzi che veramente hanno voglia di seguire le elezioni. Grande apertura da parte dell'assessore Monteleone. L'assessore Monteleone ha detto che lavorerà nell'interesse di trovare delle soluzioni pur tenendo conto dei tagli. Io dico semplicemente che i tagli ci sono e questo mi dispiace, ma questa è una figura essenziale ed obbligatoria. Quindi ho detto non so come dobbiamo fare, parli con il sindaco, l'interesse comune è quello comunque di garantire questa figura a questi ragazzi che mi hanno dato tanto il rispetto.